L'altra faccia del panino Veggie Style, benvenuti! Siamo oggi riuniti per la finale del contest L'altra faccia del panino Veggie Style. Il protagonista sarà il nostro fungo champignon trifolato a marchio Logro del gruppo. Come ogni anno ci focalizziamo su quelle sono le trend, le tendenze anche del mondo vegetale. Il panino ormai è un piatto che non manca, che non è anch'esso di tendenza e il protagonista sta sempre di più diventando il mondo vegetale. Il nostro fungo accompagnerà questa finale e auguro ai finalisti il meglio e il vincitore che accompagnerà quest'anno come brand ambassador del gruppo. Ci sono tre pari merito al secondo posto però c'è un solo vincitore e lo facciamo annunciare a Maria. Quindi vince Simone Desiato È stata una bellissima gara con tante idee. Secondo me alla fine ha vinto quello che ha messo l'ingrediente più importante quando si parla di panini vegani, panini vegetariani, ossia la gioia. Ha avuto una capacità di estrazione del sapore molto molto forte e superiore. Ha messo quel pizzico di peperoncino, quell'idea di acidità che ha dato al panino un gusto e un piacere. Io ho ragionato così. Non rimangeresti? Quando mi è arrivata l'opportunità di partecipare a questo contest innanzitutto volevo divertirmi. Quindi era anche un'opportunità per riuscire da quello che si fa tutti i giorni a fare qualcosa di diverso. Quindi l'obiettivo mio era divertirmi. Sono divertito tanto e poi forse il segreto di tutti i giorni è fare il suo lavoro divertendosi. Poi se ci si arriva in finale e si vince siamo ancora più felici e ci divertiamo ancora di più.